8 milioni di euro per il primo anno, poi per i successivi si calcoleranno eventuali rimodulazioni in base ai servizi. Presentata ieri sera alla Commissione Affari Generali del Comune di Nocera e Inferiore, la convenzione quadro tra l'ente di Piazza Diaz e la Multiservizi che dovrebbe essere approvata durante il prossimo Consiglio Comunale del 30 giugno. Un rapporto che interesserà servizi pubblici locali, rifiuti, parcheggio e cimitero e servizi strumentali come verde pubblico, viabilità, segnalettica stradale, scuola e pubbliche affissioni. La convenzione sarà un accordo generale, poi per ogni singolo servizio i rapporti saranno definiti con contratti specifici. Una convenzione che identifica i servizi che possono essere affidati alla Multiservizi, che è una società in aus del Comune e quindi una società legittimata ad acquisire questi servizi senza attraversare il percorso di gara. Disciplina la durata delle convenzioni fra Comune e Multiservizi. Disciplina identifica gli impegni che assume da Multiservizi per una corretta gestione del complesso delle attività affidate. A valle di una decisione del Consiglio Comunale su questo documento che chiamiamo contratto quadro verranno stipulate fra la Multiservizi e il Comune di Nocera i singoli contratti accessivi. Il primo passo verso una nuova organizzazione della società municipalizzata che prevede novità anche dal punto di vista delle risorse interne senza però particolari scombussolamenti. Non abbiamo credo nessuno, né io né l'amministrazione comunale, interesse a creare allarmi che allo Stato non sono assolutamente ipotizzabili. Abbiamo tutti e due l'interesse a dare maggiore efficacia, maggiore continuità, maggiore qualità al nostro lavoro in tutte le aree a partire dall'igiene urbana che è un'attività sul quale si sta concentrando ovviamente la mia attenzione e l'attenzione dell'amministrazione comunale. Credo che saremo in grado, non appena approvato il bilancio per il 2013 Multiservizi, di presentare all'amministrazione comunale in tempi rapidissimi un piano di riorganizzazione delle attività di igiene urbana e il piano industriale per il complesso delle attività che ci sono state affidate.